Solo per chiarire, qualcuno ha definito quella piazza eversiva non perché le piazze siano eversive anche quando manifestano in modo, diciamo, veramente, ma perché era piena di gente che faceva il saluto romano. Siccome il saluto romano è un reato... Sei ossesso, l'hai visto tu? No, non sono essenzionato come l'ho visto io, veramente c'è pieno di foto su tutti i giornali, forse non li hai visti tu, il che mi pare è un problema. Ma questa è un'altra questione, solo per puntualizzare, sul tema che io continuo a considerare importante anche nel 2019, anzi forse di più. Forse voi non lo considerate importante e credo che sia un problema su cui riflettere per la qualità della democrazia di questo Paese.